L'ultimo tre, l'ultimo ma sarà il primo, in nonché, campione dell'Unione Europea, in preparazione per il titolo europeo, che si svolgerà a Londra, il... grande... Ehi! E' una cosa, questo ha fatto il titolo europeo, e lo presento in Italia! Un applauso! Io mi amico sempre quando lo presento! E' un buon figlio! Allora, Alice, vuol dire due cose? Grazie, grazie! Buonasera a tutti, caro saluto al pubblico, ai competenti, saluto l'assessore dello sport di Pontidera, Franco Matteo, Renzo Cianchirotti, un caro saluto, un carissimo saluto a Alessandro Filippi, il mio preparatore Ander, che ringrazio per sempre! Un grande saluto a Giovanni Redi! E' un righissime dalla città di Pontidera, che ci ha dato questa possibilità! Inshallah, con il pubblico! E' un righissime dal 6 di Marzo, a Londra, a la Wendry Arena, con George Brun, che de vostro sostegno, vostro bambino! Grazie a tutti. Grazie a tutti.